Sindaco Montanaro, c'è puzza di emergenza in questo stop del termovalorizzatore di Acerra? Purtroppo sì, insomma da qualche giorno registriamo cattivi odori provenienti dallo stir di Tufino che come ben sapete è a confine proprio col territorio di Sperone e di Avella e quindi di tutto il Baianese. Ragion per cui nei giorni scorsi ci sono state forti lamentele da parte dei cittadini e noi istituzioni insomma ci siamo subito attivate per cercare di capire effettivamente cosa stesse succedendo all'interno dello stir di Tufino. Il sovraccarico di attività allo stir di Tufino dove dovrebbe essere conferito soltanto l'indifferenziato che a casa mia non dà cattivi odori nella raccolta differenziata e invece noi abbiamo avuto delle serate tremende, orribili ad agosto dove l'aria era irrespirabile le persone si sono dovute tappare dentro e andare avanti con l'aria condizionata perché da fuori c'erano dei miasmi talmente forti provenienti da quell'impianto almeno noi riteniamo che da lì arrivino. Sarete pronti anche al ricorso alla piazza? Ma io credo noi innanzitutto siamo uomini delle istituzioni e il nostro agire anche ove mai si dovesse pensare di una protesta verrà fatta sempre nel rispetto delle norme che sanciscono il diritto di una comunità anche a protestare. Ma è normale che certo non ci fermeremo, non saremo silenti, non a caso abbiamo riunito il Consiglio dell'Unione proprio per far capire che è un problema di un'intera area, di un intero territorio. Poi, come dire, noi siamo persone pacifiche ma lottare per i nostri diritti non ci spaventa. La situazione a Tufino come viene vissuta dalla popolazione? Dunque, in effetti noi la viviamo in prima persona, però non c'è grande consapevolezza. Diciamo che questo comitato è formato da poche persone che hanno ormai acquisito la consapevolezza del danno diretto tra i rifiuti, il problema ambientale e la salute pubblica. A Tufino abbiamo il più alto tasso di malati oncologici e più alto della media regionale. Noi chiediamo i controlli, è quello che non riusciamo a capire perché, come si diceva prima in questo incontro, non si spiega perché il secco indifferenziato provochi questo lezzo insopportabile. Quindi probabilmente c'è qualcosa che non quadra.